Oggi è un momento importante perché da qui parte lo scavo della tratta Ovest. I primi giorni di luglio le due TBM che vedete qui, le due talpe, partiranno e arriveranno fino a Solari. Ci vogliono 12 mesi di tempo per fare tutto lo scavo. Oggi questa tratta, diciamo, come stazioni, manufatti, eccetera, ha superato il 27-28% di quantità di lavoro effettuato con lo scavo gli diamo un altro, proprio una botta importante per arrivare all'obiettivo. Saranno lavori che ormai sono stati ben predisposti. Lungo tutta la tratta le stazioni sono pronte a ricevere le due TBM e quindi noi consideriamo in questo modo di arrivare, di mantenere i tempi e di lavorare per avere nel 22-23 la linea tutta aperta.